Gli abitanti di Via Puccini non sono assolutamente abbandonati né dimenticati dall'amministrazione, questa è una nostra priorità, la risoluzione del tema della tombinatura sia nella parte pubblica che nella parte privata, chiaramente ciascuno con le sue competenze, ma stiamo lavorando costantemente con l'incarico all'ingegner Zuccolo per lo studio di fattibilità e con accompagnamento legale nel confronto con i vari enti coinvolti. Continua il dramma dei residenti del centro storico di Marano Vicentino a causa del rischio idrologico incombente sulla piazza principale del paese a causa della scoperta di possibili cedimenti della tombinatura del torrente sottostante realizzata negli anni 50. Nel Consiglio Comunale di fine luglio l'amministrazione ha modificato il piano opere del prossimo anno per inserire l'intervento sull'intera piazza Silva, con lo studio di fattibilità sia alla ricerca nel frattempo di bandi e finanziamenti per rifare la copertura e la riarginatura del rio delle pietre. Nel frattempo prosegue il tavolo di confronto e di collaborazione con gli inquilini e i proprietari degli immobili sgomberati. Continuiamo ad accompagnare e a sostenere anche il loro percorso, perché anche per loro esiste il problema di dover risolvere i problemi strutturali legati alla tombinatura. Quindi assolutamente i cittadini non sono lasciati soli. Abbiamo stanziato sempre nel Consiglio Comunale di luglio degli interventi per le attività economiche che sono state costrette alla chiusura per questa problematica strutturale degli edifici. Un intervento molto costoso e complesso che richiede una riprogettazione per elevare la sicurezza del centro. L'investimento previsto si aggira a 900.000 euro. L'auspicio è che il governo riattivi i finanziamenti attualmente stracciati per interventi di questa tipologia. Noi stiamo andando avanti passo dopo passo per continuare a dialogare con i soggetti competenti, quindi il Consorzio di Alta Pianura e l'Ufficio del Demanio e anche con altri soggetti istituzionali, Regione Veneto e anche i nostri rappresentanti in Parlamento per arrivare il prima possibile a una soluzione equa del problema.